Amici, sono il mezzo soprano Isabel De Paoli e il 13 aprile sarò per la mia prima volta in Bulgaria. Sono immensamente felice e onorata di poter cantare un capolavoro come la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nel meraviglioso teatro dell'Opera e Balletto di Sofia. Il 13 aprile, alla vigilia della Pasqua Ortodossa, la musica della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi entrerà nei cuori e scuoterà le anime. Vi aspettiamo dunque numerosissimi il 13 aprile al Teatro dell'Opera di Sofia. Un abbraccio!